eccomi a questa nuova rubrica che ho appunto chiamato 20 nippoli di lana saremo insieme per 20 minuti vi farò compagnia nei prossimi giorni e praticamente vi farò vedere come realizzo io un progetto se avete seguito la diretta di sabato vi avevo già fatto vedere che insieme avremmo realizzato un coniglietto quindi ascoltate bene segnatevi tutto quello che vedrete e iniziamo oggi ovviamente con essendo un progetto in più step oggi iniziamo con tutto il materiale che vi servirà per l'intero progetto adesso giro la videocamera la vado a posizionare e rivediamo insieme il progetto che faremo che farò anzi in questi giorni ecco questo qui è il coniglietto che avrei dovuto portare in fiera un progetto basic ma un po lunghino perché richiede praticamente l'attenzione per infiltrire bene il ogni singolo elemento in maniera tale che tutte le parti del corpo siano attaccate per bene quindi io vi farò vedere in questa rubrica come si realizza questo coniglietto a partire da oggi iniziamo col dirvi il materiale che ci serve un tappetino e in gomma piuma ad alta densità che io vi consiglio di 4 centimetri di altezza altrimenti rischiate di rovinare in maniera precoce il vostro tappetino e soprattutto di rompere l'ago mi raccomando coprite sempre il vostro tappetino con una una teletta in maniera tale da allungargli la vita veniamo ai materiali allora per quanto riguarda il la lana andremo a utilizzare circa 7 grammi di lana bianca io utilizzerò questa bianca naturale non sbiancata poi ci servirà un mucchietto di rosa potete scegliere voi ovviamente le gradazioni e poi un ciuffettino di un ciuffettino un ciuffettino piccino di azzurro altri materiali saranno i materiali che userò sono gli aghi per l'esaltezza un 38 triangolare un 42 triangolare e un 40 reverse il pennino multi aghi poi andrò ad utilizzare per la base una pallina di polistirolo circa 3 grammi di lana verde degli spillini degli spillini scusate ecco qui degli spillini metto qua poi ci serviranno delle forbici delle forbici da ricamo e delle forbici per tagliare a filo un cutter del nylon del filo di nylon un ago con la cruna grossa un po di fil di ferro e una manciata di lana arancione questo è il materiale che serve per che servirà per realizzare tutti gli elementi che avete visto noi oggi non li realizzeremo tutti perché abbiamo solamente 20 minuti e quindi realizzeremo mano mano in questi in questi giorni tutti gli elementi che andranno a comporre il nostro coniglietto coniglietto iniziamo con il 38 triangolare la prima la prima cosa che andremo a fare sarà quella di realizzare la testa quindi io adesso andrò a realizzare una pera come vedete vado a prendere la mia lana una cosa importantissima quando si lavora a un progetto che deve essere particolarmente consistente e arrotolare bene la lana su se stessa in maniera tale da evitare di lavorarla a lungo questo qui non è un tutorial accelerato quindi per questo ho deciso di fare questa rubrica che dura solo 20 minuti perché insieme faremo tutti 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 i passaggi gli ultimi tre minuti di video li dedicherò a leggere le vostre domande ok 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 con questa rubrica a parte l'intento di tenervi di tenervi compagnia e quindi è un'iniziativa che mi fa piacere ma con questa rubrica voglio far capire alla maggior parte delle persone cosa c'è dietro un lavoro di feltro ad ago sia ad acqua dietro un lavoro di feltratura c'è una cosa che è ancora più preziosa dei materiali che è il tempo per esempio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La prossima volta nella rubrica metterò un sottofondo musicale così sentirete almeno un po' di musica. Grazie a tutti. 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 bello il suono del lago perfetto magari se quindi non metterò nessuna nessuna musica allora barbara ciao anna insomma stasera mi sa che non avete domande maria grazia no cominciato da molto sono giusto 20 minuti anzi fra un po fra esattamente un minuto e 40 o il timer preciso ci saluteremo quindi spero che riusciate a questo video rimarrà ovviamente sulla mia pagina e spero che riusciate a memorizzare tutti i passaggi perché li faremo in sequenza io domani per esempio non ridirò ovviamente i materiali e tutto quello che ho fatto oggi ma semplicemente continuerò questo progetto fino a quando non lo terminerò sono sempre 20 minuti e ricordatevi alle 18 e 30 in genere gli ultimi minuti sono dedicate alle domande quindi se domani mentre io sto lavorando vi viene in mente una domanda scrivetela che io gli ultimi minuti li dedicherò a voi e spero che questa iniziativa vi piaccia e considerando che in genere gli animaletti sono sempre quelli un po più lunghi da fare e l'idea è proprio quello non potevo farvi fare un webinar che durasse insomma tre ore perché troppo troppo lungo però ho pensato di spezzettarlo così ci facciamo compagnia e detta questa cosa silvia ma che brava riguardatelo più tardi ma anche perché ci sarà domani dopo domani dopo domani ancora eccetera eccetera un bacio grande a tutte a tutte voi creative non mi raccomando mi raccomando restate a casa a fare cose belle e mancano cinque secondi facciamo il conto raro esce insieme tre due uno a domani avete sentito